La doppia cifra è anche il 4 di Prunus, il 3 di Milan Kronos ed il 10 di Penelope, tutti i cavalli che per un motivo o per l'altro possono sicuramente avere una buona chance, ma è davvero tutto pronto e va in partenza l'ottava ed ultima corsa di Palermo. Grazie a tutti. Stacco che vede emergere lungo lo steccato il numero 1 di Nicolai, Nicolai che dunque va sull'iniziativa, c'è l'errore immediato di Prunus, nel frattempo Pister Gual GSM con Pietro Vasta sfonda su Nicolai, in terza posizione ha steccato Piviere Jet che ha colto un buon lancio dalla seconda fila, gli altri via via incolonnati, dunque a menare la danza. Pister Gual GSM che è stato piuttosto seguito al gioco, ha chiuso come terzo cavallo a quota di 5.45, seguono dunque Nicolai, il numero 9 di Piviere Jet, per linee esterne il 5 ed il 3 di Motorizzi e Milan Kronos, mentre la voce del campo Powerful Gar adesso viene avanti in terza ruota, che a sorpresa ha chiuso da favorito a quota di 2.67. Continua a guidare Pister Gual GSM nei confronti di Nicolai e di Piviere Jet, progredisce ma in maniera molto graduale Powerful Gar che ha girato i due che lo precedevano di fuori, ovvero Motorizzi e Milan Kronosch, adesso prova a venire avanti con più consistenza, continua a guidare Pister Gual GSM nei confronti di Nicolai e di Piviere Jet, continua la progressione esterna, adesso dovrebbe trattarsi di Nugola Lung che prova a venire avanti, si è un po' eclissato Powerful Gar che quindi non riesce a dare voce al corpo, alle voci che c'erano, cosa che invece sta dando Pister Gual GSM con Pietro Vasta che ha preso adesso un margine davvero notevole a Nicolai e stanca anche Nugola Lung, non lo è evidentemente Pister Gual GSM che adesso deve un po' guardarsi dall'ottimo finale del numero 10 di Penelo perché comunque deve accontentarsi del secondo posto, ha vinto dunque Pister Gual GSM, nettamente migliorata rispessa all'opaca prova del rientro, sul mio crinometro ho un tempo attorno all'1.16 scarsi che gli ha permesso di fare il vuoto a quota di 5.45, il training di Cosimo Cangelosi, colori appunto della scuderia Cangelosi, Penelope all'esordio locale è venuta bene nel finale a cogliere un bel secondo posto in mano a Giuseppe Greco mentre si è dovuta adeguare al terzo posto Nicolai quindi in numeri...